Siamo qui per provare questo casto di percorso che vedrà la partenza dal ferragosto ondornese per poi portarci a prendere la salita della colma, una strada abbastanza impegnativa ma larga, quindi nessun problema. Dopodiché proseguiremo verso il quadretto, continueremo per qualche chilometro sempre nella zona del quadretto per poi portarci verso Calabiana dove c'è il famoso presepe e attaccare il vero e proprio casto, salire verso il casto dove affronteremo l'anello per poi riportarci verso, rientrare verso la partenza attraverso locato e successivamente ritornare appunto ad Andorna al ferragosto. È un percorso semplice però divertente, con un bel paesaggio da vedere, quindi ci sarà a divertirsi.